Quando si dice che una coppia somiglia a Barbie e Ken, di solito si intende una coppia bellissima e perfetta in ogni suo aspetto. Il più delle volte però ci si lascia ingannare dalle apparenze. E il Ken e la Barbie di questa storia hanno puntato tutto sull'apparenza, ma solo per nascondere una terribile scia di sangue. Una scia di sangue che si stavano portando dietro da anni. Dietro quelle facce perfette si nascondevano le storie strazianti di decine di ragazze. Ciao belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. La storia di oggi in particolare ci insegnerà che l'apparenza molto spesso inganna. I protagonisti del caso sono due persone bellissime e disponibilissime, talmente perfette da venire paragonate a Barbie e a Ken. Per evitare equivoci vi dico già che questo caso non ha a che fare con le Barbie o con il film che è uscito di recente al cinema. Il collegamento diciamo che è sottile, c'è un collegamento, tra virgolette, però è molto sottile. Tranquilli, presto capirete. Ci troviamo in Canada tra gli anni 80 e 90, quando nella regione dell'Ontario cominciano ad accadere cose terribili. Studi omitidi e inquietanti ritrovamenti gettano l'intera regione nel panico. Ma per capire che cosa sta succedendo dobbiamo prima parlare di due persone. Partiamo da Carla Lian Homolka, la Barbie del caso, tra virgolette. E probabilmente anche la figura più controversa della storia. Carla nasce il 4 maggio del 1970 ed è la prima di tre figlie. Nel mese di marzo del 71 nasce sua sorella Lori e nel gennaio del 75 l'altra sorella Tammy. La sua famiglia, almeno secondo ciò che ho trovato, è assolutamente normale. Il padre è immigrato dalla Repubblica Ceca e in alcune fonti ho letto che era un padre amorevole e gentile, mentre in altre invece che si ubriacava spesso e che litigava di frequente con sua moglie. Quindi non so bene in realtà a quale delle due credere perché teoricamente erano tutti e due affidabili. Comunque la madre di Carla a quanto pare è una persona splendida davvero e amorevole. Ma non sappiamo molte informazioni certe su loro due, sui genitori di Carla. Carla tutto sommato comunque cresce in un ambiente normale ed è amata e apprezzata un po' da tutti. Nel 1978 l'intera famiglia si stabilisce ufficialmente nella città di St. Catherine's, che è molto vicino alle cascate del Niagara. Lì si trovano molto bene e vivono in totale tranquillità. Carla, crescendo, dimostra di avere un'intelligenza fuori dal comune. E già da piccola aveva dimostrato di saper fare molte più cose rispetto alle sue coetanee. La piccola Carla ama i libri e gli animali. Si fa tante amiche e sembra andare bene anche a scuola. Da adolescente diventa proprio una bella ragazza, da qui il soprannome Barbie che le verrà dato in futuro. Il problema è che adesso, che è cresciuta, il suo carattere cambia in maniera drastica. Prima era dolce, allegra e ubbidiente, ma crescendo diventa un po' testarda, aggressiva e anche tanto ingenua. Da adolescente passa gran parte del suo tempo con vari ragazzi, anche in maniera intima. Non va fino in fondo, capitemi, ma diciamo che si diverte ugualmente. Il che non è assolutamente un problema, per carità anzi. Ma diciamo che il carattere che sviluppa la porterà presto sulla cattiva strada. Anche le sue passioni cambiano. Crescendo comincia a leggere libri che parlano dell'occulto. Si appassiona anche alla musica e al canto e mantiene la sua passione per gli animali. La sua psiche però in quel periodo è piuttosto fragile, il che la porta ad essere un po' irregolare sulle sue scelte di vita. Ha diversi problemi a relazionarsi con i fidanzati. Cioè ci litiga spesso e ogni volta la sua tristezza dopo ogni litigata, dopo ogni rottura, aumenta. Diciamo che questa fase della sua vita non è poi così piacevole. E sempre durante questo periodo piuttosto problematico inizia a lavorare part time in un negozio barra clinica per animali. E possiamo dire che trovando questo lavoro realizza un suo piccolo sogno. Per cui lavora sodo e si trova davvero bene. Come vi ho detto gli animali sono sempre stati una sua passione. Tanto che il 17 ottobre del 1987 partecipa ad una convention sul cibo per animali. Cioè non è che ci partecipa e basta, ci lavora momentaneamente insieme ad una collega. E una volta terminato l'evento Carla e questa collega scendono al ristorante dell'hotel in cui alloggiano per cenare insieme. E così mentre mangiano, parlano del più del meno, Carla vede entrare un ragazzo molto attraente. Gli sguardi di Carla e di questo ragazzo si incrociano e tra di loro scatta un colpo di fulmine. Nei loro sguardi c'è proprio un'intesa istantanea. E vogliono assolutamente parlarsi e conoscersi. Carla rimane proprio folgorata da quegli occhi. Non ha mai visto un ragazzo così bello in vita sua. Ed è così che i soprannominati Ken e Barbie si incontrano. E lui a fare la prima mossa, si avvicina al tavolo e attacca bottone. Carla, quindi super felice di poterli parlare, gli dice di sedersi con loro. Così i due cominciano a parlare senza sosta e senza staccarsi gli occhi di dosso. La collega di Carla, intanto che è rimasta lì a fare il terzo incomodo, ad un certo punto decide di andarsene e lasciarli nella loro intimità. Perché si vedeva proprio che volevano stare da soli. Quindi loro rimangono da soli alla fine e continuano a parlare per ore. Il tempo passa e il ristorante giustamente ad una certa deve chiudere. Per cui i giovani già innamorati praticamente decidono di andare nella stanza d'albergo in cui soggiornava Carla. E lì fanno le loro cose. A questo punto delle vicende Carla ha 17 anni e per le leggi del Canada, anche se è minorenne, è nell'età del consenso. Il ragazzo invece è più grande di lei. Ha 23 anni e va al college. Ma nonostante la differenza d'età, i due si trovano davvero bene. E anzi capiscono di essere fatti l'uno per l'altra. Carla diventa completamente ossessionata da questo ragazzo perché dopo tante relazioni andate male, capisce finalmente di aver incontrato quello giusto. Comincia anche a vantarsi con le sue amiche di questo incontro. Dice loro che un bel ragazzo del college l'ha conquistata e che non può esserne più felice. È davvero il settimo cielo dopo il loro incontro. Carla, dopo tutto quello che ha passato, ha trovato finalmente la felicità. E l'ha trovata in un ragazzo che sente già di amare alla follia. Farebbe di tutto pur di non separarsi da lui. Letteralmente di tutto. E anche questo ragazzo comunque è felice di ciò che è successo e contentissimo di averla conosciuta. Anche lui parla ai suoi amici del loro incontro e dice di credere di aver trovato l'anima gemella. Forse a questo punto che davvero tutti si rendono conto che specialmente a livello estetico, i due sono perfetti insieme. Sono entrambi bellissimi, popolari nelle rispettive scuole e college. E tutto sommato entrambi hanno un buon carattere, in teoria. Almeno Carla infatti è convinta che lui abbia un buon carattere anche perché ci ha parlato per ore. Ma chi è veramente sto tizio? È arrivato il momento di parlare anche di lui. Paul Kenneth Bernardo Paul nasce a Toronto nel 1964. Appena viene al mondo la sua situazione familiare è già complicata. Praticamente sua madre lo concepisce quando è troppo giovane. E il ragazzo con cui ha concepito Paul la molla, la lascia da sola e incinta. Appena nasce Paul quindi questa donna decide di non dirgli la verità. Gli mente su suo padre anche perché nel frattempo si era sposata con un uomo altrettanto discutibile. Questo padre non biologico di nome Kenneth Bernardo è un uomo estremamente violento. Picchia spesso la moglie, la tradisce con altre donne e commette anche molesti sessuali. Dal loro tremendo matrimonio comunque nasce anche una bambina. Ma anche lei una volta diventata grande diventa vittima degli abusi e degli scopri del suo stesso padre. Paul in tutto ciò rimane illeso a livello fisico ma purtroppo a livello mentale assorbe tutta questa violenza. È proprio testimone dei comportamenti disgustosi di suo patrigno che pensava fosse suo padre biologico. Lui quotidianamente sente le urla di sua sorella e di sua madre e non può fare niente. Questi ricordi non se ne andranno mai dalla sua testa. Nonostante tutto ciò crescendo diventa un ragazzo brillante agli occhi di tutti e inizia a studiare scienze economiche e contabilità. Ma dentro di lui ormai c'era già qualcosa di davvero marcio. Sua madre purtroppo non si risolleverà mai da tutta questa situazione. Capisce di aver sbagliato sia col primo uomo che con il suo attuale marito. Non lo sopporta ma non vuole neanche divorziare. Forse non può o non ha la forza psicologica per farlo. E in sintesi questa è l'infanzia e la prima adolescenza di Paul. Ma all'età di 16 anni succede una cosa che lo segnerà per sempre. Probabilmente durante un litigio sua madre gli confessa che Kenneth non è il suo vero padre. E questa confessione in qualche modo cambia qualcosa dentro di lui. Da questo momento in poi Paul sviluppa un odio atroce e viscerale verso sua madre. Arrivando a litigarci spesso e in modo davvero pesante. Comincia ad insultarla in ogni modo possibile sminuendola di continuo. E lei risponde allo stesso modo. Anzi a volte è proprio lei a dare inizio a questi litigi. Quindi probabilmente è da qui che Paul capisce di voler fare come suo patrigno. Ovvero fare del male alle donne. Comincia a considerarle tutte come oggetti. E dato che è adolescente e ha gli ormoni a palla. Si crea un mix veramente pericoloso. Infatti il suo problema è che è aggressivo. Non vuole solo avere rapporti. Vuole proprio sottomettere le donne. Non gli importa niente del consenso. Diventa ossessionato dalla sessualità. E inizia a collezionare molto materiale portografico. Successivamente. Prima per gioco. Poi in maniera più inquietante. Si mette a spiare le sue vicine di casa. E le ragazze negli spogliatoi femminili. Poi dopo di ciò passa effettivamente a stupi veri e propri. Quindi un po' come Carla. Anche lui diventa un adolescente ribelle e trasgressivo. Ma direi in modo decisamente peggiore di lei. E credo che su questo non ci piova. Agli occhi dei suoi amici e dei conoscenti però è davvero un ragazzo in gamba. Oltre a questo è anche l'anima della festa. Una di quelle persone che quando c'è sai già che ti divertirai. Con le ragazze poi è un bravo manipolatore. Ha quel carisma che attrae anche solo dallo sguardo. Ma comincia ad utilizzare queste sue doti per cose sbagliate profondamente e perverse. Ed è così che inizia appunto con gli s*****i. Fare lo spione non gli bastava più. Le sue aggressioni quindi iniziano il 4 maggio 1987. Ancora prima che incontrasse Carla. E andranno avanti per decisamente troppo tempo. Paul col tempo ha proprio sviluppato una sua strategia. Praticamente verso sera si apposta di solito nei pressi delle fermate dell'autobus. Poi aspetta che delle giovani ragazze si avvicinino da sole mentre tornano a casa. E al momento più opportuno letteralmente le assale. Le costringe a rapporti... Non lo posso dire. Dunque le costringe a rapporti. Ok? E in un'occasione arriva quasi a strangolare una delle sue vittime. I suo target di riferimento sono le ragazze dai 15 ai 22 anni. Meglio se vergini. Come penso abbiate capito si tratta di un ragazzo sadico e perverso. Ma allo stesso tempo è buono, gentile e bello. All'apparenza è davvero a posto. Un ragazzo brillante, popolare. Ed è grazie a queste sue qualità che alla fine passa tutto inosservato. Gli stupri, tutto quanto passano inosservati. E lui si laurea alla University of Toronto nell'87. Trova anche un buon lavoro come contabile in una banca. In tutto ciò incontra anche l'amore della sua vita. Carla. I due iniziano a frequentarsi perché come vi ho detto è stato proprio un colpo di fulmine come mai se ne è sentiti. Lui le fa mille regali, le porta spesso delle rose e... Insomma ogni volta che può fa qualcosa di romantico per lei. Sembra sinceramente innamorato. Mentre per lei Paul è talmente tanto perfetto che avrebbe fatto di tutto pur di non separarsi da lui. Letteralmente di tutto. Dunque come avete capito la coppia è molto affiatata. Anche fin troppo. E dall'esterno sembra una coppia felice, bellissima, simpatica. Ma basta solo frequentarli per un po' per capire che Paul ha un ruolo molto dominante in questa relazione. Anzi possiamo dire proprio controllante. Carla pende letteralmente dalle sue labbra e si sottomette a lui in ogni occasione. E intanto mentre questa relazione va avanti, nel quartiere di Toronto chiamato Scarborough accadono delle cose molto preoccupanti. Tra l'altro questo è il quartiere in cui vive Paul. Strano eh? Comunque da un po' di tempo si stanno verificando moltissimi scopri come già vi ho detto. Molte ragazze però hanno iniziato a segnalare alle autorità diverse violenze intime ricevute vicino alle fermate degli autobus, ma anche in altri luoghi appartati. Quindi raccogliendo tutte queste testimonianze, la polizia cerca di creare un identikit del colpevole. Non tutte le vittime lo ricordano, non ricordano bene il suo volto. Ma da quello che viene fuori, la polizia capisce che si tratta di un ragazzo giovane e di bell'aspetto di circa 20 anni. Studiano anche il suo modus operandi e le sue preferenze e concludono che si tratta di qualcuno di violento e con dei tratti sociopatici. Pensano che sappia come conquistare le donne e che sia anche brutale nei metodi perché è forte abbastanza da sopraffare quasi chiunque senza problemi. Tutte queste informazioni ricordano spaventosamente Paul, ma la polizia in questo momento non ha alcun sospetto e non conosce tutto ciò che noi conosciamo già su di lui. Per cui non si tratta di un'ondagine semplice, per niente, e Paul sembra una persona veramente insospettabile dall'esterno. Anche perché, come vi ho detto, il ragazzo fisicamente sembra tutto forché un mostro. Quando pensiamo a schifosi stupratori o assassini, sicuramente non ci viene in mente un volto come il suo. Ma la realtà è che chiunque può commettere crimini del genere, anche la persona più bella del mondo, e fa paura pensarci perché anche un vicino di casa o una persona per cui abbiamo una cotta potrebbe nascondere del marcio dentro. Quindi non basta fare affidamento sull'aspetto, bisogna fare molta attenzione ai comportamenti. Anche solo leggeri segni di violenza ingiustificata, rabbia incontrollabile o comportamenti che ci sembrano strani e un po' estremi, possono essere un gigantesco campanello d'allarme. State attenti ad ogni minimo dettaglio ragazzi, per favore, anche se avete di fronte la persona più bella e carismatica del mondo. Perché non dare peso a questi campanelli d'allarme può portare a gravissime conseguenze. Un po' come è successo a Carla. Anche se Paul da un po' ha cominciato ad essere violento con lei, lei comunque lo perdonava. Lui le chiedeva scusa, le portava delle rose e lei ogni volta ci cascava. Non fate questo errore, so che non è facile, ma è fondamentale trovare la forza per staccarsi da persone così all'inizio. Perché poi dopo diventa impossibile, praticamente diventa molto difficile. Carla, per esempio, amava Paul e anche se si era accorta che qualcosa non andava, preferiva stare con lui. Perché ai suoi occhi e agli occhi di tutti erano davvero la coppia perfetta. Ma tutta questa violenza e tossicità porteranno a delle situazioni inimmaginabili e davvero macabre. Per questo vi dico di stare attenti, il caso di Paul e Carla non è un caso isolato, anzi... Vabbè, scusate per questa piccola parentesi ma dovevo farla. Tornando a noi, sono passati 18 mesi da quando Paul e Carla si sono incontrati. E nel quartiere di Scarborough, come già vi ho detto, continuano ad esserci tantissime segnalazioni di sopro. Tuttavia, dall'esterno, sembra andare tutto bene tra i due. Nel 1989, Carla si diploma e nel mese di dicembre parte in vacanza con Paul per una visita alle cascate del Niagara. Proprio lì, in un punto panoramico bellissimo, lui si inginocchia davanti a lei e le fa la proposta di matrimonio. Ovviamente Carla accetta senza nemmeno pensarci. E questo conferma quanto fosse ormai sottomessa da lui. Perché vi ricordo che a questo punto aveva già subito violenze da parte di Paul. Ma vabbè, fatto sta che una volta tornati a casa, ne parlano subito con i rispettivi genitori. E sono tutti davvero felicissimi per loro. I genitori di Carla, specialmente, sono davvero pieni di gioia perché adorano Paul. Pensano davvero che sia il ragazzo giusto per la loro figlia. Perché chiaramente non hanno idea di tutto ciò che noi sappiamo. La coppia quindi decide di sposarsi nella primavera del 91. E vogliono organizzare un evento molto speciale. Un evento perfetto. Proprio come la loro relazione. All'apparenza. E durante questo periodo di preparativi, in attesa delle nozze, succedono tantissime cose, una peggiore dell'altra. Tanto per cominciare, la polizia rilascia una sorta di identikit del volto dello stupratore seriale. Questo criminale, per il momento sconosciuto, viene chiamato lo stupratore di Scarborough. Tutti sono profondamente preoccupati. E quando viene pubblicato l'identikit, che vi metto in foto da qualche parte, succede una cosa molto particolare. Qualche amico e conoscente di Paul, leggendo i giornali, vede il ritratto. E nota diverse somiglianze proprio con Paul. Uno di questi conoscenti chiama anche la polizia ed esprime le sue preoccupazioni su di lui. Così gli agenti a loro volta chiamano il giovane e gli fanno un interrogatorio. Da questa chiacchierata, però, non scoprono nulla. Il ragazzo ai loro occhi sembra un tipo apposto. Gli chiedono soltanto un campione del suo DNA. E lui approva senza problemi. Quindi immagazzinano il campione di DNA insieme ad altri centinaia di campioni ancora da analizzare. Tutti per il caso di questo misterioso stupratore. Ah, e vi ricordo che siamo alla fine degli anni Ottanta. Quindi le analisi del DNA erano molto più indietro rispetto ad oggi. E per analizzare un singolo campione ci voleva davvero troppo tempo. Oltre a ciò, ci sono già tantissimi campioni da analizzare prima del suo, prima di quello di Paul. E questo allunga i tempi in una maniera davvero esagerata. Ed è davvero un peccato che il suo DNA non sia stato analizzato subito. Perché se quello stesso giorno dopo l'interrogatorio avessero analizzato subito il suo campione, il mio video sarebbe finito qui. E molte persone innocenti sarebbero state risparmiate. È davvero triste. Avevano la persona giusta, ma per via di una tecnologia poco sviluppata, e per via delle apparenze alla fine, perché era tutta apparenza la sua, è successo tutto ciò che sto per raccontarvi. Comunque, come vi dicevo, succedono tante cose in questo periodo di attesa del matrimonio. Quella che vi ho raccontato è la prima. La seconda è che Paul si trasferisce a casa della famiglia di Carla, a St. Catherine. Decidono di fare questa cosa insieme, in modo da mettere da parte i soldi per poi andare a convivere. E ovviamente dal momento in cui lui si trasferisce a Scarborough, il quartiere di Toronto, smettono di esserci tutti quegli stupri. Che strano. Ma cominciano a St. Catherine. Tralasciando questo, che era abbastanza prevedibile, devo dirvi che Paul in questo periodo si trova bene con tutti nella famiglia di Carla. Specialmente con sua sorella minore. Temmie. Temmie all'epoca ha solo 15 anni, ma ovviamente a lui poco importa dell'età. Si fa tanti pensieri perversi su di lei e diventa praticamente il suo chiodo fisso. E piccola parentesi, mentre leggevo questa storia ho pensato, ma perché si è interessato così tanto a Temmie? Cioè di lì a poco si sarebbe sposato con una donna che sostanzialmente si faceva sottomettere, quindi perché continuava a pensare alla sua sorellina? La risposta c'è, e sinceramente mi ha fatto vomitare. Paul era così interessato a Temmie perché la ragazzina era vergine. Ricordate il suo modus operandi? Lui preferisce sempre ragazze vergini perché dal loro dolore lui trae godimento. E siccome si era già preso la verginità di Carla, ora si sente in diritto di esigere un risarcimento morale, ovvero crede che gli spetti un'altra vergine o una cosa così. Davvero un ragionamento malatissimo ragazzi, ma fatto sta che lui spiega a Carla questa cosa e per qualche motivo lei accetta. Cioè è d'accordo con lui, pensa che si meriti una vergine. Per cui cosa fa la nostra Carla? Come regalo di Natale, pensate che cosa allucinante, regalo di Natale, gli regala la verginità di sua sorellina di 15 anni. Ma che cavolo. E non sto scherzando, cioè Carla progetta sul serio la sua stessa sorella. E dato che lavora in una clinica veterinaria, ruba dei sedativi per animali da dare a sua sorella. Poi si esercita ad usare una fotocamera, una videocamera, che sarebbe servita nell'operazione. E così la sera del 23 dicembre 1990, circa sei mesi prima delle nozze, sono tutti a casa dei genitori di Temmie e Carla. Ad un certo punto però i genitori vanno a dormire e Carla e Paul dicono a Temmie di restare un po' con loro per bere degli alcolici. Carla quindi prepara i drink e in quello di Temmie diluisce il sedativo. La ragazzina si addormenta sul divano poco dopo, quindi mentre Carla le tiene uno straccio imbevuto di un anestetico sul viso, Paul inizia a stupirla. Il tutto mentre i genitori di Temmie stanno dormendo nelle loro stanze. Carla in più immortala la scena con alcune foto e dei video, così per ricordo. Insomma tutto procede secondo i loro piani disgustosi, almeno fino a quando non accade un imprevisto. Terribile. Improvvisamente, mentre i due hanno un rapporto violento, Temmie inizia a vomitare, forse per overdose da medicinale, e presto comincia anche a soffocarsi col suo stesso vomito. Secondo ciò che ho trovato sul web, la bile le aveva tappato la gola fino a non farla più respirare. Probabilmente la testa era completamente sdraiata, cioè lei era totalmente sdraiata e aveva la testa giù, e questa posizione non le ha permesso di vomitare, di aspellere il vomito propriamente. Carla quindi cosa fa? Prova a girare la testa ed intervenire come può, ma sostanzialmente è tutto inutile, così i due chiamano subito il 911 e fanno passare questa cosa come un incidente. Dicono che Temmie aveva bevuto troppo. Poco dopo arrivano i soccorsi e la ragazzina viene portata al St. Catherine General Hospital, dove i medici provano a fare quel che possono, provano a rianimarla, però ormai non c'è più niente da fare, e la dichiarano deceduta per cause naturali verso le due di notte della vigilia di Natale. I genitori di Carla sono sconvolti, ma non sospettano minimamente che possa essere colpa di loro due. Pensano davvero che forse Temmie aveva esagerato con l'alcol, e anche gli inquirenti non hanno alcun sospetto. Viene tutto archiviato come un incidente a seguito di una sbronza. Sembra che tutti quanti abbiano preso sul serio la versione di Paul e Carla senza il minimo dubbio, e lo trovo semplicemente assurdo perché sarebbe bastata un'autopsia per capire che si trattava di omicidio. Inoltre, mossa molto furba, Carla aveva lavato via tutte le tracce di liquido seminale da sua sorella, quindi anche l'ipotesi di uno stupro era lontana anni luce. Purtroppo se la cavano così, e ne sono felicissimi. Il 27 dicembre del 1990, Temmie viene sepolta, e Paul e Carla scrivono dei biglietti per lei, nei quali si dicono molto tristi ed esolati. Tutta una messa in scena, ovviamente. Paul, a seguito dell'omicidio, e in privato, chiaramente, dà tutta la colpa a Carla per aver fatto morire il suo giocattolo. Capite a che livelli di follia siamo? E comunque, arrivato a questo punto, pretende subito una sostituta. Cioè, se ne sbatte altamente di tutto ciò che è successo e vuole un rimpiazzo, vuole un altro giocattolo. E Carla, come sempre, obbedisce senza problemi. Si mette alla ricerca della prossima vittima, che dopo un po' di tempo, purtroppo, trova. Si chiama Jane, ed assomiglia vagamente a Temmie. Questa povera ragazza sarebbe stato il regalo di nozze per Paul. Ci rendiamo conto. Quindi, con già tutto questo in mente, Carla fa amicizia con Jane e conquista la sua fiducia. Un giorno la invita a casa per una cena, e dopo aver mangiato, la povera Jane perde i sensi. Carla, ovviamente, le aveva messo un medicinale nel cibo per farla svenire, per poi donarla a Paul. Infatti, una volta addormentata, la ragazza chiama Paul, che arriva e rimane piacevolmente soddisfatto dalla sorpresa. Così sfoga tutte le sue pulsioni sulla vittima. Ma una volta finito, obbliga Carla a fare lo stesso. E lei, senza fare troppe storie, procede a stupire Jane. La vittima, intanto, è incosciente, e non si rende conto di nulla. Finite le aggressioni, la mettono a letto, e quando si sveglia il giorno dopo, lei sente dei dolori un po' ovunque, ma non riesce a ricordare proprio niente. Per fortuna, sopravvive, e Paul rimane molto soddisfatto da questa esperienza disgustosa. Finalmente ritiene Carla degna di essere sua moglie, e questo sarà il vero inizio della loro vita criminale insieme. Per andare avanti, dobbiamo un attimo spostare il focus su altre persone. Dunque, l'11 giugno 1991, un giovane ragazzo di soli 15 anni, di nome Christopher Evans, muore a causa di un incidente stradale, insieme ad altri tre adolescenti. La comunità è sconvolta da questa tragedia, ed è giustamente in lutto. Una giovane ragazza coetanea di Christopher, di nome Leslie Mahaffi, di 14 anni, un giorno va all'agenzia di pompe funebri per celebrare la veglia insieme ad altri ragazzi. Durante la cerimonia, cerca di consolare i suoi amici, e dopo l'evento, insieme ad un gruppo di altri conoscenti, va in un bosco, lì vicino, per bere qualcosa. Alle due di notte del 15 giugno, questa Leslie, torna a casa solo un attimo, perché, non so bene che cosa dovesse fare a casa, ma aveva intenzione di uscire subito di casa e tornare dai suoi amici e stare ancora un po' con loro. Accidentalmente però, una volta in casa, si chiude fuori dalla porta sul retro. Cioè, lei esce dalla porta sul retro e per sbaglio si chiude fuori. E questo è un problema perché anche la porta d'ingresso principale era chiusa. Erano stati i suoi genitori a chiudere la porta principale perché erano stanchi del suo comportamento. In effetti, Leslie non si era comportata benissimo di recente. Aveva fatto diversi furti in dei negozi e aveva spesso marinato la scuola. Inoltre, quel giorno aveva promesso di tornare a casa entro le 11 di sera, ma non lo ha fatto. Per questo i genitori l'hanno sostanzialmente chiusa fuori di casa. Leslie allora, rendendosi conto della situazione, spiega a tutti i suoi amici ma dice loro di non preoccuparsi. Dice che avrebbe risolto tutto abbastanza in fretta. Così va in una cabina telefonica e chiama a casa di una sua amica per chiederle se potesse dormire da lei. In questo modo, il giorno dopo sarebbero andate insieme al funerale di Christopher. E inoltre, Leslie non avrebbe fatto infuriare i suoi genitori tornando a casa troppo tardi. Ma comunque rimane al telefono fino alle 2.30 di notte senza purtroppo riuscire nel suo intento. La sua amica le dice sostanzialmente che non può stare da lei per cui non le resta altro che tornare a casa dei suoi, svegliare sua madre e ricevere una marea di insulti. Ma proprio nel momento in cui decide di tornare a casa amareggiata per ciò che la aspetta fa un incontro decisamente disturbante. Si imbatte in pole. Il ragazzo attacca bottone e la invita a salire in macchina. E Leslie purtroppo accetta. Forse la paura di essere rimproverata dai genitori era così grande che in confronto a accettare inviti da sconosciuti le sembrava una cosa da niente. Comunque appena entrata in macchina Paul non perde tempo e mostra subito la sua parte peggiore. Inizia a milacciarla e le copre gli occhi con una felpa per non farle vedere dove la stesse portando. Le toglie la felpa dagli occhi solo una volta arrivati a casa sua dove c'è Carla ad attenderli. Ma poi le bendano di nuovo gli occhi e tra le urla di Leslie e le canzoni di Bob Marley e David Bowie in sottofondo avviene un violento scuola. Chiaramente tutto ripreso dalla videocamera di Carla. Veramente uno schifo. Il mattino dopo comunque il 15 giugno è anche il giorno del funerale di Christopher e i genitori di Leslie non trovandola a casa si preoccupano e chiamano subito la polizia che però non può fare nulla e non ha nessun sospetto. La 14enne non si presenta nemmeno a scuola il 17 giugno giorno in cui avrebbe dovuto fare un compito di matematica. Per cui anche i suoi amici cominciano a preoccuparsi ma nessuno può neanche lontanamente immaginare ciò che le sta accadendo. Infatti la ragazza durante la notte tra il 15 e il 16 giugno dopo essere stata in ostaggio per ben 24 ore viene drogata da Paul e successivamente staccolata con un cavo elettrico. Il suo cadavere viene nascosto in cantina e il tutto avviene veramente in maniera molto fredda premeditata calcolata. Poi cosa davvero assurda il giorno dopo Paul e Carla invitano a cena i genitori di lei come se niente fosse mentre avevano un cazzo di cadavere in cantina e tra l'altro per poco la madre di Carla non li ha scoperti. La donna infatti aveva intenzione di scendere giù in cantina per prendere delle patate ma Paul l'ha fermata in tempo ed è sceso lui a prenderle. Una situazione davvero surreale ragazzi sembra uscita da un film horror cavolo. L'indomani comunque i due piccioncini capiscono che non possono tenere un cadavere nascosto in cantina per sempre. Così cosa fa Paul? Smembra il corpo di Leslie usando una sega circolare poi mescola i vari resti con del cemento e li getta nel lago Gibson. Ma ovviamente la sparizione di questa ragazza non passa inosservata. Nei giorni successivi i suoi genitori cominciano a pensare che fosse scappata tant'è che il 18 giugno sua madre autorizza addirittura l'arresto di sua figlia nel caso in cui venisse provato il suo allontanamento volontario e quando due settimane dopo la scomparsa al compleanno della madre Leslie non si fa sentire i genitori pensano che ormai i rapporti con lei siano andati perduti ma ovviamente non sanno la verità non possono nemmeno immaginarselo cavolo. Leslie non voleva scappare voleva tornare a casa e ha fatto di tutto per non farli arrabbiare. Non ho davvero parole ragazzi vabbè Intanto gli amici di Leslie quelli che quella sera erano con lei alla veglia forniscono molte informazioni agli agenti e provano insieme a ricostruire un po' le dinamiche di quella notte ma tutto diventa superfluo quando il 29 giugno una coppia in canoa scopre dei pezzi di cemento nel lago questi pezzi però erano fatti male non saprei come dire e stavano rilasciando il loro contenuto ovvero i resti di Leslie dopo ore le autorità recuperano varie parti del corpo e viene ufficialmente riconosciuto che quello era ciò che rimaneva della quattordicenne a questo punto sono tutti sconvolti si è trattato di un ritrovamento ragazzi agghiacciante e mentre tutti sono preoccupati spaventati o nel panico sapete cosa stavano facendo Paul e Carla lo stesso giorno del ritrovamento loro si stavano sposando era il giorno del loro matrimonio e festeggiavano sorridevano ridevano anche qui cioè io non ho parole immaginate se gli invitati avessero saputo cosa avevano fatto quei due comunque il padre di Carla durante il taglio della torta brinda in memoria della figlia Tammy ormai deceduta come sapete così per ricordarla per far finta che fosse anche lei lì con loro ma Carla cambia velocemente argomento per brindare agli sposi e questo piccolo dettaglio ci fa capire come ormai anche lei fosse diventata insensibile egoista apatica cazzo è la sua sorella ma comunque passa del tempo e loro si sposano e continuano con la loro schifosa vita nel corso dei mesi e degli anni però in realtà Paul peggiora tantissimo diventa sempre più violento sempre più sadico e sempre più manipolatorio Carla intanto è sempre più insoddisfatta ce l'ha a morte ma non con lui con se stessa per non riuscire a soddisfare suo marito è triste perché non è più vergine e quindi Paul non è più interessato a lei sotto quell'aspetto sono delle dinamiche veramente ragazzi malate fatto sta che per rimediare tra virgolette a questi problemi di coppia i due decidono di trovare una nuova vittima cioè ormai era l'unico modo per far andare avanti la relazione il che la dice lunga e a Carla andava bene così o almeno sembra che le andasse bene così non so davvero che cavolo le stesse passando per la testa cioè è incomprensibile circa dieci mesi dopo l'omicidio di Leslie il 16 aprile del 1992 la coppia individua la loro terza vittima la trovano nel parcheggio di una chiesa di St. Catherine lei è una ragazza canadese di quasi 16 anni e si chiama Kristen French Kristen però è molto previdente non si fida degli sconosciuti e non è una sprovveduta quel giorno sta passeggiando da sola per strada quando Carla alla guida della sua macchina esce dall'abitacolo con una mappa in mano e si avvicina alla ragazza dicendole di essersi persa mentre le chiede delle informazioni stradali prima che Kristen potesse fare qualsiasi cosa Carla le punta addosso un coltello e la costringe a salire in macchina in quel momento Paul che è sempre stato lì scende dalla macchina e si siede nei sedili dietro con la vittima penso per tenerla d'occhio lì nei sedili posteriori continua a minacciarla dicendole che le avrebbe tagliato la gola se anche avesse solo provato ad urlare anche questa terza vittima viene bendata e ammanettata e portata nella loro casa questa volta però per fortuna qualcuno ha visto qualcosa nel senso che qualcuno ha proprio notato la coppia nel parcheggio della chiesa dove è avvenuto il rapimento e questa cosa tornerà molto utile più avanti ma torniamo alle vicende dentro quella casa come al suo solito Paul esagera con le violenze ma questa volta si spinge davvero ancora oltre non posso entrare nei dettagli ma sappiate che le ha inferto delle violenze senza precedenti per farvi capire posso dirvi che sostanzialmente l'ha distrutta e umiliata in un modo davvero angosciante intanto Carla come al solito ha ripreso tutto con la sua videocamera Kristen purtroppo in quella situazione non poteva fare assolutamente nulla pensava che sarebbe sopravvissuta se avesse obbedito a tutto senza ribellarsi ma purtroppo ragazzi pensava male Paul e Carla non sono i classici sottori sono degli assassini seriali spinti da un desiderio di violenza sempre crescente dopo queste violenze infatti Paul esce di casa per 30 minuti e Kristen comincia ad implorare Carla di risparmiarle la vita ma lei non fa nulla senza il consenso di suo marito infatti quando Paul torna a casa e accende la televisione sente l'edizione straordinaria del telegiornale in cui viene lanciato un appello dal padre di Kristen l'uomo quindi cambia subito canale e si infuria riprende a s***** la ragazza ma questa volta la tortura per circa altri tre giorni quindi il 19 aprile Carla si ricorda dell'invito dei suoi genitori al pranzo di Pasqua e decide di presentarsi da loro con suo marito ma non prima di aver inflitto gli ultimi tormenti alla vittima e così dopo l'ennesima violenza e legano al collo la povera Kristen con un cavo elettrico e alla fine muore soffocata dopo giorni interi di assoluta agonia dopo tutto ciò gettano il suo corpo in una fossa a Burlington che si trova a circa 45 minuti da St. Catharines e qualche giorno dopo la polizia trova anche questo cadavere ma la cosa che fa arrabbiare è che le autorità non collegano gli omicidi pensano che sia opera di assassini diversi intanto però cercano qualsiasi indizio utile e vengono a contatto con delle testimonianze e se ricordate qualcuno aveva visto qualcosa il giorno del rapimento dei testimoni infatti raccontano di aver visto Kristen nel parcheggio di quella chiesa a St. Catharines e dicono anche di ricordarsi il modello dell'auto su cui è salita per cui gli agenti spargono la voce riguardo quest'auto e piazzano degli avvisi in giro sui giornali in cui chiedono se qualcuno avesse visto questo modello di auto in giro peccato però che i testimoni ricordavano male sebbene il modello dell'auto fosse simile non era proprio lo stesso quindi anche se qualcuno avesse visto quell'auto gli agenti non sarebbero riusciti a risalire alla coppia di assassini per fortuna però di lì a poco sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino di Paul e Carla gli investigatori si rendono conto di avere davanti un caso davvero complicato anche perché oltre a questi delitti continuano ad avvenire altri stupi in giro per la zona e sembra che non accennino a fermarsi dunque viene difficile credere che sia tutta colpa di una sola persona tutta questa violenza solo da una persona o due si tende a pensare che si tratti di un gruppo di criminali e anche per via di questo Paul e Carla riescono a farla franca per tutto sto tempo anche se pian piano sempre più prove e testimonianze cominciano a portare a loro tuttavia arriva finalmente un piccolo bagliore di speranza quando dopo il terzo omicidio viene coinvolto l'FBI quest'ultimo riesce ad identificare il proprietario della macchina che stavano cercando ovvero Paul per cui di nuovo il ragazzo viene convocato dalla polizia per un interrogatorio anche questa volta inspiegabilmente si conclude con nulla di fatto però ricordate che all'epoca del primo interrogatorio Paul ha dato il suo DNA ebbene finalmente dopo anni nel 1993 viene analizzato notano quindi che ci sono delle corrispondenze con quello che avevano trovato sulle vittime per cui alleluia hanno qualcosa per incriminarlo però ancora non lo arrestano lo mettono semplicemente sotto sorveglianza e da questa sorveglianza notano che la sua situazione familiare si sta sgretolando il matrimonio con Carla è diventato insostenibile Paul era talmente tanto violento con lei che i suoi genitori ad un certo punto la obbligano a divorziare da lui su internet ci sono delle foto di una volta in particolare in cui Paul picchiandola le ha addirittura rotto una costola e in queste foto si vede lei con gli occhi talmente neri che sembrano finti sembra trucco non la metto nel video perché non mi sembra il caso ma nell'eventualità in cui qualcuno volesse vedere con i propri occhi le conseguenze della violenza a cui era sottoposta cosa che comunque sconsiglio sappiate che si trovano facilmente su internet Carla comunque obbligata a divorziare torna a vivere dai genitori nel 93 a questo punto gli agenti vanno a trovarla e la sottopongono a degli interrogatori e lei malgrado tutto quello che aveva subito e che aveva fatto non apre bocca non confessa niente e soprattutto non tradisce suo marito o almeno non con gli agenti perché in realtà come potete immaginare è molto provata dalla situazione quindi dopo un po' esplode e si confida con suo zio raccontandogli tutto quest'ultimo sentendo le sue agghiaccianti parole non ci pensa due volte e chiama la polizia ed è da qui che nasce una sorta di collaborazione tra Carla e gli agenti la ragazza ammette di aver sbagliato e di aver partecipato agli omicidi e riconosce il fatto di non poter più rimediare i suoi errori ma quantomeno può fare qualcosa ovvero fermare Paul il suo ex marito ormai alla fine è sempre stato lui il problema alla radice di questa storia per cui Carla collabora con i detective in cambio di uno sconto di pena e così finalmente dopo anni di orrori il 17 febbraio 1993 Paul viene arrestato due giorni dopo il 19 febbraio durante la perquisizione di casa sua gli agenti trovano un diario e sei filmati in videocassette che documentavano le violenze sexuali ai danni delle ragazze uccise solo allora una delle vittime Jane scopre di essere stata avventata nel sonno e di essere sopravvissuta per miracolo non oso nemmeno immaginare lo shock che avrà provato in quel momento naturalmente comunque la notizia dell'arresto fa un enorme scandalo tutti conoscevano Paul e Carla avevano tanti amici e dal loro punto di vista sono sempre stati una coppia normale sempre belli gentili estroversi anche nelle foto che troviamo online li possiamo vedere sempre intenti a ridere sorridere che si divertono sembrano tutto fuorché una coppia di assassini sembrano Barbie e Ken ed è per questo che dopo l'arresto vennero chiamati così dai media anche se con Barbie e Ken non c'entrano niente come avete potuto vedere comunque nel 95 i due vanno a processo e alla fine Carla viene condannata a scontare 12 anni di carcere per la complicità negli omicidi e altri reati minori il primo settembre Paul viene invece condannato all'ergastolo per 3 omicidi e 15 stori accertati anche se secondo Carla sarebbero almeno più di 30 lui viene incarcerato in una piccola cella di isolamento nel penitenziario di Kingston successivamente la sua casa viene demolita e il terreno venduto Carla invece viene rilasciata il 4 luglio 2005 in libertà vigilata qualche mese dopo però le tolgono le 14 restrizioni sulla libertà quindi in sostanza la liberano in modo definitivo cosa che ha fatto infuriare milioni di persone persone che erano già infuriate per via della pena considerata troppo bassa quella di Carla lei comunque successivamente ha chiesto di poter cambiare nome legalmente ma la richiesta l'è stata rispinta tuttavia nonostante questo si è rifatta una vita con un nuovo marito e altri figli cioè figli il suo ex Paul si trova tuttora in carcere e ci resterà per sempre in teoria se c'è una cosa che possiamo imparare da tutto questo schifo è che non dobbiamo mai fidarci solo delle apparenze ragazzi alcune persone possono portarci su strade davvero buie e farci fare cose terribili e disgustose contro la nostra volontà ed è una cosa che può succedere a tutti se non si è attenti e consapevoli se Carla fosse stata più cosciente avrebbe subito fatto arrestare suo marito per esempio in questo modo non avrebbero ucciso nessuno ma purtroppo le cose non sono andate così e ora non possiamo fare niente se non ricordare le povere vittime di questi mostri perfetti intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto torneremo a parlare di sovrannaturale più di preciso affronteremo un caso davvero spaventoso in cui sentirete delle registrazioni audio che non vi faranno dormire la notte davvero quindi spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare i pulsanti iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao